Quando alleniamo una cosa sulla quale fare veramente attenzione è di non trasmettere le nostre frustrazioni ai giocatori Ovviamente non sempre ci riesce ma è veramente importante Perché una ricerca fatta tra il 2012 e il 2016 ha evidenziato come lo stile di leadership dell'allenatore può influenzare lo stato di stress dei giocatori La conseguenza diretta ma non ancora scientificamente trovata è che più un giocatore è stressato a causa dell'allenatore più altra probabilità che si faccia male Sono stati presi in considerazione le stile di leadership più democratici e alcuni un po' più autocratici E si è visto come nelle squadre in cui i giocatori erano più liberi di fare avevano meno restrizioni, si facevano molto meno male rispetto a quelle squadre in cui l'allenatore era un po' più dittatore Quindi in un allenatore dovremmo farci qualche conto in tasca e vedere che cosa ci conviene meglio fare